Salve a tutti, ci troviamo nella cucina del ristorante Stella d'Italia, io sono Ernesto, il titolare è questo il mio collaboratore, lo chef Mitine, è un classico della nostra cucina. Sono lumache in umido con le erbette, queste lumache sono precedentemente sbollettate dopo averle purgate parecchio, lavate con farina e aceto. Adesso vado a fare la ricetta, ho messo nella pentola, olio e burro. Vado ad inserire il nostro soffritto, sedano, carota e cipolla, che facciamo rosolare per bene. Andiamo ad aggiungere dei filetti di acciuga, mettiamo le nostre lumache, dopo averle rosolate per bene, le andiamo a sfumare con del vino bianco. Metteremo i nostri aromi, che sarà del pepe, del sale. Vado a mettere le nostre erbette precedentemente sbollentate, per esattezza sono le biete. Queste lumache qua devono cuocere piano, 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 almeno un paio di ore. Poi nell'occorrenza ci metterò anche un po' di bronzo di verdura e per ultimo un po' di concentrato di pomodoro. Noi abbiamo già preparato queste lumache qua e adesso vi faremo vedere impiattate con della polenta qua della nostra zona. Andiamo a impiattare le nostre lumache. Una spolverata di grana. Il piatto è pronto, buon appetito dal ristorante Stella d'Italia.